Musica Eccoci qua Uh, livello finale Onesto mi ricorda un po' Mi dà la sensazione del livello Quello Del robot gigante di mostri contro alieni E vabbè Sai cosa Mi sa che faccio prima morire e rientrare Esatto, così abbiamo la vita piena Forse non me l'ha contata No, si me l'ha contata Bastardo Maicca di terra Ecco qua Allora, vabbè almeno abbiamo la vita intera No Ok, questo ho sbagliato io Pensavo di arrivarci Ah, c'è la pedana Ok, ok Ancora Ok Pedana Ma Come Ma scusami, allora Vabbè dai Proviamo ad aspettare Ah, mer L'ho capita Eh, non so se devo aspettare o cosa Quindi Ah, c'era Ok Siamo troppo lontani, vero? No, preso Perfetto Quindi Ah, ok Adesso Adesso si è alzata Eh, certo Quando vuoi tu, eh Va bene, va bene Duplicatore Eccolo lì, infatti Se avessimo Sandy adesso Ah No Come immaginavo Va bene Dicevo Dicevo Se avessimo Sandy adesso sarebbe tutto più easy No Brutta Brutta idea Vai, vai Dovrebbe arrivarci Perfetto Ok Aspettiamo esatto che faccia un altro colpo Vai Prendilo Preso in pieno Perfetto Adesso arriverà Plankton Da qualche Eccolo qua Vai, vai, vai Prendilo, prendilo, prendilo Preso Non è difficile Però tanto sono sicuro che Dopo questa parte Ci sarà qualcos'altro Sicuro Lì c'è un altro Sento dei rumori molesti Cosa ci sono i rumori? Vabbè Andiamo avanti, va? No Non mi ha preso Il Il coso Dove devo andare? Oh, ok Cos'è? Ah, il Oddio Non lo vedevamo da così tanto Che me l'aveva scordato completamente Lui Aia Basta Preso No, troppo Dai Oh, cavolo Faccio prima a fare così, vero? Va bene che mi colpisco da dietro Ma guarda Oh, non si sono neanche avvicinati Pensa un po' Pensa un po' Che scemi che siete Dov'è? Plankton Eccolo qua Ciao Più, 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 più Ecco fatto Salutate il mio piccolo amico bolla Preso E ora si prosegue Sì, sta parte qua facevi Veramente prima davvero Col missile Come abbiamo fatto noi Perché se no Trampolino Eccolo qua Ultima zona No, ce n'è ancora una di sicuro Ui Ecco qua Vai, 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 vai No Allora qua Devi incastrare per bene Il momento in cui lancia il missile lui E il momento In cui spawnano gli altri Questa non è facilissima Aspetta Preso Fai spawnare la bomba Fai spawnare loro Ecco fatto Vai, 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 vai Preso Perfetto Niente altri spawner Ecco qua A parte quanto è grosso dall'interno il bot Oh Ciao Da fuori non era così enorme Controllo missione Prendilo, prendilo, prendilo Preso Perfetto Eccoci qua Ma se faccio così scusami A volte non c'è soddisfazione E manco lo Veramente Manco lo sforzo di usare la La palla Scusami ma Sì con che angolazione Dove Eccolo qua di nuovo Dai sparami No Ok preso Perfetto Altro Ok Ok Scusami un attimo Oh Ah Oh Aspetta Fammi provare Aia Fammi provare un attimo Ah Ok Ok Non ci avevo pensato Non ci avevo pensato Effettivamente Dovrà appare di nuovo No Ok Ah ok Questa me la sono un po' beccata Onesto Era un salto un po' corto Il mio Ci avrei dovuto pensare A questa Però Nel mentre che ero lì Non ho collegato Dai Ne manca uno Quindi O forse due Eh no Due Due No È lo stesso di prima Perfetto Allora abbiamo finito Ecco qua Ale I piccoli Non comandano È oro O bronzo Quello Mi sa che era oro Che ravvicinato Ma no Ma dai Ma poverino Secondo me Plankton ora Muore schiacciato Da Spongebot Ah no Spongebob Spongebob Ti sei riuscito A fargo Ja Come Ehm Bravo Tutti miei piani In fumo È deciso Diventerò un avvocato Sol Sol goodman Ma no Ma no Ma no Ma no Ma no Ma no Si distrugge una vicenda A chi hai detto stupido Io sono andato al college serale Brutta caffettiera Megalomane Ah si Ti faccio vedere io Ma plankton Spero tu abbia imparato la lezione Oh ma certamente La prossima volta non fallirò Ma no Abbiamo vinto Chi vuole del gelato Lo voglio io Lo voglio io Anche perché senti come farebbe a mangiarlo Anche là fuori ci sono ancora dei robot che devastano Bikini Bottom Non ha torto Però non ha nemmeno una torta Sarò punito Non so per cosa ma vi dico che sarò punito È sicuro Là fuori c'è ancora molto da fare Waterman e Supervista andrebbero avanti Quindi lo farò anch'io Ci fermeremo solo quando Bikini Bottom sarà salva Beh in teoria il gioco è finito Tutto quello che rimane è il completismo Ma dai Quindi Ok Ma Ah C'è un minigioco Sono uno schianto C'è un minigioco Ma dai Ma a parte che scusami come ci arrivi Vabbè dai Io proseguo Andiamo a vedere com'è Che stronzata Vabbè dai No Ok Ok Ma è tutto qua Cioè nel senso Ha un qualche senso Logico Mi darà Qualche premio effettivo Tutto ciò Vabbè non mi importa Guarda onestamente Arrivato a questo punto Lo faccio giusto perché c'è Anche perché hai sti cerchi Vabbè Amen Io Ma No Non volevo uscire Volevo vedere se potevo uscire fuori dalla forma di palla Che stupido Vabbè Amen Allora onestamente per completare il gioco al 100% ci manca Prende tutte le spatole d'oro da Mr. Krabs Che sono altre 5 Altre due spatole da Patrick E sono 7 Mentre tutti gli altri livelli dovrei aver completato tutto A parte in realtà solo uno No Questo l'abbiamo fatto Questo è completato Fatto Ci manca l'ultima spatola d'oro che richiedeva il razzo Però vabbè questa è una cagata Quindi 8 spatole Sono sicuro che ci sia qualcosa per il completamento al 100% del gioco Oltre vabbè A sbloccare anche il cinema con 40.000 stelline Però Alla fine è completismo solo mero a se stesso Quindi Direi che la serie principale è conclusa qui Devo ammetterlo Il gioco è Bello È davvero bello E onestamente Mi ha dato la sensazione di essere pari pari a quello della PS2 Perché Avendo giocato appunto quello del film E avendo giocato questo Ho visto tantissime cose uguali Su un gioco ripatto su PS4 ovviamente Il che mi fa Chiaramente pensare che Sia stato preso pari pari e Riportato poi su nuova generazione Il gioco è bello Vale veramente la pena di essere giocato Mi ha divertito davvero un sacco E da una parte ti dirò Non mi dispiacerebbe provare altri giochi di Spongebob Quindi signori Vi ringrazio tutti per aver seguito anche questa serie Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo A una prossima serie Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti